Abbiamo riscontrato la grande volontà di interessarsi alla figura a tutto tondo che è stata Gabriele D'Annunzio, la sua vita e la sua epopea e quindi quest'anno c'è la terza edizione che in realtà è la prima edizione del Festival D'Annunziano. Speriamo che sia un festival che possa sorgere ai livelli di altri festival culturali importanti che ci sono in Abruzzo, in particolare città di Pescara, ricercheremo una collaborazione sempre più intensa con il Festival Flaiano e questo per noi è un grande momento anche di recupero della centralità di Pescara sullo scenario nazionale e internazionale. Oltre che promuovere la parola e il ritmo e il movimento, anche quello di chiedere generosità ai cittadini di Pescara, abruzzesi e italiani nel frequentare gli eventi, non imponiamo l'acquisto di un ticket ma di un contributo liberale per la rinascita della Pineta, cioè chiunque verserà una risorsa frequentando questi eventi culturali importanti che ci sono, questi soldi saranno poi consegnati al Comune di Pescara, al Comune di Ortona, agli altri comuni della Costa dei Trabocchi, cioè i luoghi dannunziani che sono stati così duramente colpiti dagli incendi ultimi scorsi che per noi sono una ferita aperta, sanguinante, che però dobbiamo saturare e far rinascere. Questa è Pescara da sempre, da quando è nata ad oggi e anche dopo il Covid Pescara sta dimostrando una grande effervescenza, tante attività che ripartono, che crescono, ma questa è Pescara, oltretutto col Festival d'Annunziano allunghiamo anche la stagione estiva perché andremo fino al 12 settembre, Pescara è piena, scoppia di gente, di turisti che avranno anche la possibilità di continuare a stare a Pescara godendosi questo Festival d'Annunziano che come iniziative, come spettacoli è sicuramente di livello nazionale ed internazionale.